Buonasera a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24, i principali titoli del nostro telegiornale, confermata alla sospensione dalla carica di primo cittadino per Mimmo Lucano da ieri fuori da Riace. Mimmo Lucano, ci sono tutte le condizioni per far sì che il modello Riace continui senza i fondi destinati agli Sprar. Ancora nessuna traccia del giovane scomparso da Filandari nel Vibonese. Caso Bergamini, chiesta la proroga delle indagini dalla procura di Castrovillari. Nuovi guai per l'ex consigliere regionale Franco Larupa. A Cosenza ha allestita una mostra sul centenario della grande guerra. E ritorniamo a parlare della vicenda di Mimmo Lucano, i cui arresti domiciliari sono stati revocati, ma come ormai noto ha dovuto lasciare Riace per il divieto di dimora deciso dal Tribunale. Per Lucano inoltre è stata confermata la sospensione dalla carica di primo cittadino. Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha emesso un decreto con il quale ha confermato la sospensione dalla carica del sindaco di Riace, Domenico Lucano, agli arresti domiciliari dalla 2 ottobre scorso con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per i leciti nell'affidamento dell'appalto per la raccolta di rifiuti. Il provvedimento del prefetto si collega alla decisione con il quale il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha revocato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Locri a carico di Lucano, disponendo però al contempo nei suoi confronti il divieto di dimora a Riace. E Lucano ha così lasciato il suo comune e la sua gente, che rischia ora di vedere sparire quel modello di accoglienza tanto decantato, lontano dai confini nazionali. All'inizio l'ha presa molto male, poi piano piano si è fatta una ragione, ma lui sarà sempre combattivo e combattivo sarà sempre combattivo, perché la sua creatura non vuole farle morire. Una nostra truppa ha raccolto una lunga dichiarazione del sindaco Mimmo Lucano che continua ad affermare il modello Riace non morirà. Io ho la speranza che tutto possa continuare, bisogna avere un po' di pazienza e il messaggio che voglio trasmettere anche alla comunità multietnica di Riace è quello di avere pazienza e di sperare che questo incidente si risolva il più presto possibile. Però io ero fiducioso perché l'avvocato è stato molto bravo a rappresentare tutta una... ha fatto un'architettura soprattutto sull'apprendimento della raccolta differenziata e poi rimaneva questa ombra sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, perché quella segue una... come devo dire... una impostazione dove se tu non osservi le norme che poi sono tutte nell'impianto e Riace oggi è al centro di un sistema di relazioni internazionali, è già scattata la macchina solidale che ci sono stati dei contributi con i quali siamo andati avanti perché l'ospedale non si sta pagando. Io dico invece a tutti, a tutti quelli che sono a Riace e sono almeno 80-90 persone che potrebbero essere inserite in un processo così, con le loro famiglie possono continuare del lavoro. E cambiamo argomento, ad una settimana dalla scomparsa si teme il peggio per il giovane di Filandari la cui auto è stata ritrovata bruciata nei pressi dello svincolo di Mileto sull'autostrada a due del Mediterraneo. Tra gli inquirenti non si scarta l'ipotesi che si possa trattare di un caso di Lupara Bianca. Ancora nessuna notizia di Francesco Vangelli, il 26enne di scaliti di Filandari scomparso nel nulla ormai da sei giorni, la coauto è stata ritrovata bruciata nel territorio comunale di Dinami nei pressi dello svincolo autostradale di Mileto. Le ricerche dei carabinieri proseguono senza sosta, ma della ragazza nessuna traccia. Come si ricorderà, il giovane si è allontanato la sera del 10 ottobre scorso dicendo ai familiari di avere un appuntamento per una cena non si sa esattamente con chi e da quel momento non è più rientrato a casa. È uscito intorno alle 22 ed il suo cellulare ha smesso di essere acceso intorno a mezzanotte. Da quel momento nessuna notizia, nessun contatto, al punto che la mattina successiva i genitori si sono rivolti alle forze dell'ordine denunciandone la scomparsa. Si cerca di ricostruire gli ultimi spostamenti di Francesco Vangelli scandagliando la zona anche con l'ausilio dei cani molecolari, al vaglio degli inquirenti anche le celle di tabulati telefonici essendo ormai confermata la teoria che non si sia trattato di un allontanamento volontario. Le indagini si concentrano sulla vita privata di Francesco Vangelli per capire cosa sia potuto accadere ad una persona per bene, dedita al lavoro, impegnata nell'attività di famiglia che si occupa della lavorazione del ferro, lontano e completamente estraneo agli ambienti criminali. Insomma, il classico bravo ragazzo. Si ipotizza una relazione sentimentale che potrebbe aver dato fastidio a qualcuno al punto da armare una mano assassina, una relazione pericolosa giunta ad una svolta inattesa, una relazione che probabilmente viveva un momento delicato. Le indagini dei carabinieri di Vibo Valencia procedono attraverso interrogatori di persone informate sui fatti e in qualche modo sospettati. Si intravedono nuovi sviluppi sul caso Dennis Bergamini, il calciatore del Cosenza trovato cadavere nel 1989. Il procuratore capo di Castrovillari Eugenio Facciolla intende chiudere le indagini entro la fine dell'anno. La procura di Castrovillari ha chiesto una proroga nelle indagini sull'omicidio di Dennis Bergamini, il calciatore del Cosenza scomparso nella notte del 18 novembre del 1989. L'inchiesta proseguirà dunque, ma secondo quanto riporta Sky, il procuratore Eugenio Facciolla è intenzionato a chiuderla entro la fine dell'anno. Poi i tempi tecnici consentiranno la valutazione di tutto il materiale prodotto in questi mesi. Nel registro degli indagati, lo ricordiamo, ci sono la ex fidanzata di Bergamini, Isabella Internò, Raffaele Pisano, il conducente del camion sotto il quale, secondo l'accusa, venne fatto ritrovare il cadavere del calciatore e il marito della Internò, Luciano Conte, con l'accusa di favoreggiamento personale. Secondo le tesi della procura, Bergamini non si sarebbe suicidato gettandosi sotto il camion condotto da Pisano. Una tesi quest'ultima sostenuta all'epoca dalla stessa Isabella Internò, ma sarebbe stato ucciso per motivi che sono tuttora in corso d'accertamento. Un processo e una vicenda che ancora dopo quasi 30 anni sono lontani dalla chiusura definitiva. La prima inchiesta sulla morte di Bergamini archivio il caso come suicidio. Una seconda inchiesta risalente al 2011, invece, era stata poi archiviata nel 2015. Nel 2017, infine, il procuratore Facciolla ha aperto un nuovo fascicolo, così come richiesto dai familiari di Bergamini. Un ultimo capitolo, si spera, che potrà chiarire definitivamente questo giallo lungo ormai 29 anni. Ancora cronaca, emergono nuovi elementi a sfavore dell'ex consigliere regionale Franco Larupa nel merino della DDA di Catanzaro dal 2010. Non c'è solo la sproporzione tra i redditi dichiarati e le attività economiche svolte. Quello che emerge dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Catanzaro nei confronti dell'ex consigliere regionale Franco Larupa è che più si scava nelle sue vicende, più emergono fatti di una certa rilevanza penale. Mentre i finanzieri mettevano insieme le carte relative alla misura di prevenzione richiesta dai magistrati, è emerso infatti che Larupa, già dipendente della comunità montana del Savuto, poi confluita nell'ente Calabria Verde nel 2015, fosse stato distaccato fin dal mese di maggio 2010 in un'altra struttura pubblica, l'ufficio agricolo di zona Diamantea. A settembre 2015 l'azienda Calabria Verde ha notificato alla Rupa la cessazione del suo distaccamento, ma dagli atti della GDF risulta che Larupa abbia lavorato nell'ufficio Diamantea indebitamente. Fino a luglio 2017 gli emolumenti percepiti dall'ex consigliere regionale ammonterebbero così ad oltre 35.000 euro. E se il presente non si mostra roseo il passato dell'uomo politico non è nemmeno burrascoso, la sua infatti è una carriera che cammina di pari passo con la cronica giudiziaria di cui si è reso protagonista, così come ricostruito dai magistrati della DDA di Catanzaro. Nel 2010, ad esempio, è diventata irrevocabile una condanna per abuso d'ufficio per avere in qualità di sindaco Diamantea omesso di emanare un'ordinanza di revoca della licenza del pubblico esercizio. Un'altra condanna divenuta definitiva è quella per il reato di scambio elettorale politico mafioso per aver stretto un accordo con Antonio Forastefano del clan dominante a Cassano Ionio. Il 20 luglio 2017 la Rupa è stato arrestato su ordine del GIP del Tribunale di Paola perché in concorso con Marcello Socievole avrebbe minacciato un uomo, la sua compagna e la famiglia di lei, elettori nel comune Diamantea. L'uomo avrebbe dovuto intercedere con la fidanzata e la sua famiglia per portare i loro voti alla lista azzurra. E cambiamo decisamente argomento. È prevista per domani la riunione della Commissione regionale e alla Sanità per decidere sulle sorti dell'ospedale della Piana. Si terrà domani l'attesa seduta della terza Commissione regionale Sanità convocata dal consigliere regionale Giuseppe Pedà che si occuperà al primo punto dell'ordine del giorno dello stato di attuazione delle procedure relative alla costruzione dei nuovi ospedali in Calabria. Un'occasione anche per fare il punto sull'itere per la realizzazione del nuovo ospedale della Piana che è programmato nel lontano 2007 come le altre tre strutture sanitarie nuove che dovrebbero sorgere nella regione ma che ancora non hanno visto la luce. Il nuovo ospedale della Piana ricordiamo dovrebbe sorgere a Palmi il cui progetto definitivo è atteso per il prossimo 30 ottobre. Pedà, consigliere regionale di Gioia Tauro, mira a fare chiarezza su un percorso che da 11 anni ha vissuto di continui stop e incertezze. Non possiamo rinviare all'infinito, ha rimarcato il consigliere. La gente della Piana ha bisogno di risposte e che venga fatta chiarezza. È necessario che i tempi siano certi e che al contempo ci venga detto come potenziare l'offerta sanitaria di un territorio che oggi è carente. Nel corso della riunione della Commissione Sanità la volontà è quella di ascoltare anche l'ingegnere Pasquale Gidaro, dirigente del settore opere pubbliche e dell'edilizia sanitaria della regione. Gidaro, sostiene ancora il consigliere Pedà, potrà relazionarci sullo stato dei lavori e confermarci che, come ha ribadito lui stesso, entro il 30 ottobre verrà depositato il progetto definitivo del nuovo ospedale di Palmi. Sarebbe molto grave se ciò non si verificasse. Una volta reso noto il progetto definitivo si attende anche di conoscere il cronoprogramma. E ora ci spostiamo a Tropea dove il comandante della compagnia lascia la sede della città del Vibonese. Dopo due anni alla guida della compagnia dei carabinieri di Tropea, il capitano Dario Solito lascia la Calabria per raggiungere la capitale, dove andrà ad occuparsi di polizia militare alla caserma della Cecchignola. Nello specifico andrà a ricoprire il ruolo di comandante della sezione di polizia militare del comando di formazione, specializzazione e dottrina dell'esercito. Lascia la provincia di Vibovalenza dopo un anno particolarmente difficile, durante il quale si sono verificati tre tentati omicidi e sei omicidi, tra i quali spiccano senz'altro quello all'imbadi di Matteo Vinci, ucciso con un'autobomba, quello di Francesco Timpano ammazzato mentre si trovava sulla spiaggia a Nicottera Marina e quello di Sumalia Sacco, il migrante emaliano freddato con un ficile mentre raccoglieva delle lamiere nell'ex fornace di San Calogero. Tutti questi episodi hanno avuto una risonanza mediatica particolare, tanto da tirare decine di giornalisti da ogni parte d'Italia. Sicuramente è stato un periodo molto particolare, molto ricco di situazioni professionali che sicuramente hanno inciso in maniera assolutamente positiva anche su quella che è la mia esperienza professionale. Il Compressorio sotto la sua giurisdizione è un territorio particolare nel quale si riscontrano problematiche che si diversificano anche in base al periodo dell'anno in cui si verificano. Sì, sicuramente il territorio nel periodo estivo, oltre a tutte le altre emergenze ed esigenze, aveva sicuramente quella di un notevole afflusso turistico che aumentava tutti gli indici sia riguardante la circolazione stradale che poi anche per quanto riguarda tutte le attività repressive e preventive. Cosa lascia e cosa porta con sé? Lascio sicuramente tutta una serie di ricordi, di rapporti umani che sono stati stretti nel territorio e porterò sicuramente tutto questo in quelle che sono le mie prossime esperienze professionali. A Cosenza, nell'ambito del centenario della Grande Guerra, è stata inaugurata la mostra con immagini d'epoca e riproduzioni di documenti originali che racconta il contributo fornito dai carabinieri allo sforzo bellico del paese nel corso del primo conflitto mondiale. L'arma dei carabinieri in occasione delle celebrazioni e nel ricordo dell'anniversario della Grande Guerra ha organizzato anche una mostra itinerante su quello che è stato l'impiego dei carabinieri stessi, definito dal generale di brigata Vincenzo Paticchio, presente per l'occasione presso la caserma Palo Grippo di Cosenza, un dramma nazionale per il numero dei morti che il primo conflitto mondiale fece registrare. Una mostra innanzitutto per ricordare, una mostra per continuare a mantenere saldo il legame con le nostre origini, una mostra voluta per significare che ciò che oggi siamo è grazie al sacrificio di tantissimi che non solo non vanno dimenticati ma dei quali va recuperato lo spirito, il servizio allo Stato e alla patria. Nel corso del suo intervento il generale Paticchio ha lanciato anche un messaggio importante e significativo ai giovani studenti presenti. Io credo che non bisogna banalizzare ciò che si ha, ciò che si possiede, è tutto il risultato di un sacrificio, è tutto il risultato di uno sforzo, è tutto il risultato di un dono che abbiamo ricevuto e che abbiamo il dovere di onorare sempre, quale che sia la nostra interpretazione della vita e del sociale che abbiamo. Una mostra che ha toccato la Calabria ha testimonianza anche del fatto che oltre che numerico fu anche è sostanziale l'apporto dei carabinieri calabresi nel primo conflitto mondiale. Fortemente voluta anche qui in Calabria perché non solo l'apporto calabrese è stato un apporto numericamente molto importante nonostante le difficoltà e nonostante la orografia del territorio che all'epoca aveva un'importanza fondamentale per lo spostamento delle truppe, ma mi piace sottolineare in questa circostanza che in Calabria percentualmente la regione ha avuto il terzo livello di gratificazione per ciò che riguarda gli atti di eroismo con ben 14 medaglie d'oro al valore militare alla memoria, un tributo di sangue altamente importante nonostante in quegli anni si tendesse di più a sottolineare l'apporto di chi proveniva dalle regioni del nord che erano più direttamente implicate nel conflitto con gli astro-ungarici. E anche per oggi è tutto, io vi aspetto domani sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre, come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it. Grazie e buona serata a tutti voi.